Ancora un lopo investito da un treno. Si tratta di un esemplare femmina. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile, nei pressi di Verbania. Ad effettuare il rilievo sono stati gli agenti della polizia provinciale guidati da Riccardo Maccagno. In questi casi generalmente le spoglie del selvatico, che è ancora un animale protetto, vengono trasportate alle strutture del corpo di... È live 24 ore su 24